Vieni, Raffaele, 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 questa è la Paride, grazie, grazie. Sta arrivando il Presidente Gianni. Grazie. Per favore? Per favore? Sì sì. No, forse! Due fatti! No, due fatti! No, lo spinga! Qui, qui si sta parlando di cosa? Siamo su una carta! Stai di scelto, ok. Lo spingue! bene anche noi siamo per cose serie ci hanno buttato fuori no no signori nessuno viene buttato fuori venite dentro non tollero che nessuno venga buttato fuori se può entrare no 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 niente che esce bravo ho fatto rientrare il Presidente ho fatto rientrare il Presidente ho votato bene ho fatto rientrare il Presidente non so tr Spotify la rio non so